secondo video sul gp di argentina rossi che ha paura e lo fa dichiarare anche da lin jarvis che torna utile riprende il suo ruolo momentaneamente elevato gli da uccio rossi che dichiara di aver paura di marquez e non ci credono nemmeno nelle trasmissioni di sky che sono partner quelli di sky del 46 su 34 fronti e soprattutto non ci crede secondo me spero neanche rossi che queste cose le ha fatte quando aveva l'età di marquez con gente come viaggi gibernau cavastone eccetera solo che va detto le ha fatte con più stile va detto e con tutta una stampa dalla sua va detto adesso non è più in grado di farle e in più gliele fanno e dichiara di aver paura forse sperando che qualcuno sanzioni marquez lo neutralizzi dato che in pista nessuno è in grado di neutralizzarlo in altri modi è un grido di aiuto lui è cattivo e si chiede aiuto alle entità che lo possono aiutare come la stampa la dorna eccetera come fece nel 2015 nelle conferenze pre gara in cui prefigurava situazioni che poi si sono verificate seppur diversamente la cosa eclatante è che rossi ha sempre fatto queste cose però le ha fatte quando ne ha avuto bisogno marquez invece le fa anche adesso che è due secondi più veloci degli altri che potrebbe vincere con una mano sola perché perché marquez è l'evoluzione di rossi in tutti i sensi e marquez rispecchia i ragazzi di oggi che sono incomprensibili ai ragazzi di ieri sono molto più estremi molto più riverenti e anche diversamente educati e fanno cosa che i ragazzi di ieri non arrivavano a fare sotto tutti i punti di vista basti vedere anche la stampa quello che succede nel mondo così come diversamente educati sembravano quelli della generazione di rossi a quelli della generazione precedente ora tralascio tutte le dichiarazioni di valentino nei confronti di stoner e pedrosa quando diceva che se avevano paura dovevano correre da soli e che le moto non sono sport per signorine che non si spettino alle bambole eccetera dichiarazioni che poi si sono trasformate nel tempo in dichiarazioni opposte verso zarco marquez eccetera quando rossi valentino ha iniziato a lamentarsi delle stesse cose delle quali si lamentavano gli altri nei suoi confronti eppure ai tempi del sic gli spagnoli furono liquidati come piagnoni indovinati da chi e anche quella volta la ragione non stava né da una parte né dall'altra ora io non so se sia vero che rossi ha paura ma di sicuro il suo atteggiamento nei confronti del motociclismo maschio è cambiato sarà l'età sarà che prima queste cose le faceva adesso le subisce però mi chiedo cosa avrebbe detto il rossi di una volta incontrando un rossi rossi di oggi che gli dice che ha paura e si lamenta se hai paura corri da solo se hai paura stai a casa in realtà non aveva ragione né il rossi di prima che faceva il marquez né il rossi di adesso che fa il pedrosa e non avevano ragione allora né gibernau né marquez oggi perché la realtà è che ci dovrebbe essere una via di mezzo in tutto e il motociclismo dovrebbe essere comunque governato in qualche modo e in realtà ci dovrebbe essere anche un tempo naturale per tutti e a questo che servono i cambi generazionali che bisogna anche se è brutto e doloroso sempre accettare il tempo va sempre rispettato la stampa e l'informazione le tv non possono e non devono pretendere di colorare e cambiare gli eventi devono solo limitarsi nel modo più obiettivo possibile a fotografarli anche se sono in affari con uno dei protagonisti